Musica Martedì 10 gennaio 2017, buongiorno dalla redazione di Teledown e ben ritrovati anche oggi all'appuntamento con la nostra rassegna stampa e i servizi del TD News. Andiamo subito sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, vediamo l'apertura e vedete si parla del freddo e soprattutto della neve. Il conto salato della neve, distrutti interi raccolti agricoli, il ministro, presto lo stato di calamità. Emiliano a Santeramo, lo stato dovrà risarcire, polemico il sindaco. Parecchie masserie ancora isolate, soprattutto nel barese, di verbi sui ritardi degli interventi. Per Nunziante, la regione ha fatto il suo dovere. Maltempo dunque, tregua in Puglia e Basilicata, ma per l'agricoltura il conto è salato. Distrutti interi raccolti e parecchie masserie isolate. Il ministro Martina annuncia lo stato di calamità naturale. Emiliano a Santeramo dice lo stato deve risarcire, è polemica sulla protezione civile. Nunziante si difende. Dunque, danni incalcolabili in Puglia e Basilicata, specie nelle campagne, mentre il maltempo concede una fragile tregua. Anche se nella giornata di oggi continua l'allarme meteo, l'allerta meteo, questa mattina, le prime luci dell'alba, qualche fiocco di neve è caduto anche su Foggia e dunque la situazione è ancora instabile. Vengo anch'io, no to no, l'euroschiaffo a grillo. Il leader di Alde, troppe differenze tra noi. Il 78% dei grillini aveva detto sì alla svolta. Dunque i liberali europei respingono la richiesta del Movimento 5 Stelle. La sintesi impossibile tra europeismo e pauperismo, scrive Giuseppe De Tommaso. Poi ancora vediamo, il va ottime offerte da entrambe le cordate, ok da Galletti ai piani ambientali, ora si passa alla proposta vincolante. Tragedia in via Carli a San Severo, arso vivo nel ruogo della sua casa, un uomo di 42 anni affetto da disturbi psichici, evacuate per precauzione, 12 famiglie. Poi andiamo ancora a vedere in nazionale cosa accade. Freccia Rossa, capolinea a Bari. Trenitalia lascia a terra il Sarento. La domenica 15 soppresso il collegamento Milano-Lecce. Migranti intesa tra Libia e Italia contro i trafficanti. Poi ancora Messina dà fuoco alla ex Maleilo scagiona. Nel Catanese i genitori si erano separati, si uccide a 14 anni. Letti esauriti, pazienti curati per terra, sospesi, i medici annola. Poi vediamo FCA, Fiat Chrysler Automobile investe negli Stati Uniti e Trump ringrazia. La replica è un atto dovuto. Idilio dunque tra Trump e Marchionne. Grazie Fiat Chrysler. Così Trump commenta l'investimento di FCAI per la fabbrica del Miserwest. Un miliardo di dollari e 2.000 posti di lavoro. La replica di Marchionne è un atto dovuto. La solidarietà spontanea della vera Puglia migliore, scrive Tonio Tondo. Medici che per garantire la continuità assistenziale trascorrono la notte in ospedale, oltre il loro turno. Un gruppo di cittadini di Lecce che raccolgono soldi per comprare e donare un camper ai clochard. Atti di altruismo nelle campagne per aiutarsi nell'emergenza. Agricoltori che mettono a disposizione gratuitamente i loro trattori per liberare le strade dalla neve per spangere il sale. E il coraggio di assumersi responsabilità senza telefonare ai numeri della protezione civile della Regione. Tutti questi episodi di generosità sono numerosi. Non fanno parte della consuetta rete del volontariato sociale e dei servizi più o meno istituzionali. Nessun corpo intermedio, partito o sindacato li ha prodotti e guidati. Addio a Bauman, il liquidatore di tutte le certezze ideologiche. Zygmunt Bauman ha segnato la fase conclusiva del secolo delle ideologie e della fine delle grandi narrazioni. Un'epoca, quasi un'era, in cui la rivoluzione tecnologica, la crisi dell'industria fordista, la globalizzazione degli uomini e delle merci hanno posto in crisi, fino a sbicciolarli, i fondamenti del canone occidentale, fondato sul primato dello Stato-Nazione e della ragione ordinatrice, con tutti i suoi conciliari. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta di Capitanata. Naturalmente si parla ancora delle conseguenze del maltempo e della neve. Gelata su verdure ed ortaggi, perso già il 20% del raccolto. Ondata di maltempo, temperature sotto lo zero, vento freddo in campagna, il fresco comincia a scarseggiare nei mercati. Sui Monti Dauni e il Gargano si torna gradualmente alla normalità. CIA e Coldiretti, danni maggiori a finocchi e carciofi, confagricoltura, strade rurali da aprire. Poi vedete la fotonotizia del rogo di San Severo, in cui ha perso la vita un disabile di 42 anni. La tragedia, vedete, ieri mattina in via Carli, dove ha preso fuoco un appartamento. Un uomo di 42 anni, affetto da disturbi psichici, è morto ieri mattina nell'incendio di un appartamento in via Carli, nella zona 167 di San Severo. Le fiamme sono partite presumibilmente da una fonte di calore e hanno invaso in poco tempo l'appartamento, allontanate per precauzione le 12 famiglie che abitavano la palazzina. Il pizzo col pretesto del prestito, due foggiani condannati a due anni e mezzo per l'estorsione ai danni di un operaio che fu già vittima di un taglieggio analogo da parte di uno degli imputati. La trappola della squadra mobile scattò al momento della consegna della prima rata della tangente pretesa. Poi vediamo. Piace Faber, il foggia nel destino. Presentato uno dei due acquisti rossoneri. Gaston Faber, vent'anni, prelevato dal Danubio Montevideo, squadra uruguaiana. Sono venuto qui per vincere. Cerignola interporto addio alla società messa in liquidazione. A Mafredonia, dopo le provinciali, non è escluso il rimpasto in giunta. Vi este l'onorevole Elena Gentile contro l'ASL serve l'ospedale. Poi vediamo ancora il progetto, un plastico in punta di dita per conoscere il teatro giordano. Un modello in scala del teatro giordano e presto anche quello della cattedrale. Così anche i non vedenti potranno conoscere i monumenti identificati di foggia grazie a un progetto, la strada della cultura, che ha coinvolto a vari livelli la scuola Santa Chiara, il comune, l'associazione Mira, la cooperativa Braille e Claudio Grenzi. Tradotto in Braille anche un volumetto su Umberto Giordano. Vediamo anche nell'articolo di Filippo Santigliano come consuetudine. Se la Chiesa intercetta il grido d'aiuto dei nuovi poveri. Il 2017, sul fronte della solidarietà a Foggia, si è aperto con un bellissimo gesto. L'apertura della casa per i papà separati, a iniziativa della Caritas di Ocesana. Si tratta di una delle tante sfaccettature del mondo dei nuovi poveri, che avanzano e ci spilano accanto senza provocarci sussulti. Vediamo infine anche la prima pagina dell'attacco. Chi resta male e chi se ne va. C'è poi chi decide di dare un senso alla storia di Foggia, attraverso una parola, frichigno, che non è solo pallone. Il Laboratorio Artefacendo di San Giovanni Rotondo prova a censire i cervelli in fuga e quelli in pausa di Capitanata. Emergenza, maltempo, storie belle di solidarietà. L'ondata siberiana di gelo non ha regalato solo al Gargano inediti paesaggi innevati, ma anche ha evidenziato l'esistenza di alcuni cittadini del Cuore d'Oro, da San Nicandro Garganico a Cerignola. Storie di solidarietà. Poi vediamo ancora. Giardinetto, l'avvertenza ambientale rimossa. La discarica abusiva di Giardinetto è ancora lì, aperta e fruibile da chiunque, con l'intento di riportare all'attenzione uno dei più ingombranti disastri ambientali della Capitanata. Lo storico e fotografo Giovanni Rinaldi ha realizzato un fotoreportage sullo stato attuale del sito. Sanità di Capitanata, la gentile ospedale di aria disagiata per Vieste. Poi ancora la pediatria che salva i bambini del Madagascar. Ginolisa, ragionevoli chance di ripescaggio, si torna a parlare dell'aeroporto foggiano. Non è dato sapere oggi quando il Governo metterà mano alla revisione del piano nazionale degli aeroporti, ma adesso anche il Ginolisa di Foggia ha una chance concreta di tornare ad essere tra gli scali di interesse nazionale. Lo scorso 22 dicembre è stata presentata da Aeroporti di Puglia S.P.A. distanza affinché l'aeroporto di Foggia sia incluso tra gli scali di interesse nazionale. Mercadante di missioni obbligate di Mastro Serio, ecco chi mi ha pugnalato. Amareggiato e deluso, lo ripete spesso Rosario Mastro Serio, l'ormai ex direttore artistico del teatro Mercadante di Cerignola. La notizia è arrivata quasi come un fulminaccio e sereno nel silenzio delle festività. Il teatro Giordano ha aperto i lavori conclusivi del progetto. La strada della cultura conduce ai disabili visivi. Come vedete, flussi migratori hanno record. Nel corso del 2016 l'Italia ha raggiunto un nuovo record per gli sbarchi di migranti. Sono stati oltre 170.000 gli arrivi via mare. Poi vediamo ancora nella parte alta. La Befana diventa multietnica, partecipazione per l'evento che ha parlato di intercultura su Viale 24 Maggio a Foggia. Partito Democratico, tentazione irrisolta dell'erba. I corteggiamenti del PD di Apricena per dell'erba avrebbe risvolti non locali. E poi vedete, rossoneri, Foggia Calcio, di piazza o evacuo il Foggia Sogna. Il direttore sportivo di Bari si affretta a chiudere per i centravanti, attesa per il post IML. Intanto nella giornata di ieri è stato presentato il primo dei nuovi arrivi in casa Foggia, l'uruguagio Gaston Faber. Vedremo poi tra un po' il servizio. Abbiamo visto già in prima pagina la fotonotizia della tragedia che si è realizzata ieri a San Severo dove un disabile ha perso la vita. Vediamo il servizio realizzato ieri dalla nostra redazione dopo qualche ora dall'evento. Un incendio di grandi dimensioni è divampato questa mattina tra il quinto e il sesto piano di una palazzina di edilizia popolare in via Mario Carli a San Severo. Nel rogo ha perso la vita un disabile di cui non sono state rese ancora le generalità. È stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco che hanno raggiunto l'appartamento abitato dalla vittima solo dopo aver domato le fiamme e circoscritto l'incendio. Sembra che il rogo sia scoppiato proprio all'interno dell'appartamento dove il disabile risiedeva insieme ad altri familiari. Alcuni testimoni hanno affermato che nonostante i tentativi di parenti e inquilini dello stabile la vittima si sia rifiutata di abbandonare l'abitazione. Tutti salvi gli altri residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Severo e di Foggia con cinque mezzi e una quindicina di uomini che grazie al loro pronto intervento hanno impedito che l'incendio si propagasse all'intero edificio ed evitato una tragedia ben più grave. Nello stabile infatti sono state trovate cinque bombole di gas che avrebbero potuto esplodere da un momento all'altro. Sul posto stanno operando i carabinieri di San Severo che hanno avviato le indagini per far luce sulle cause dell'incendio ed eventuali responsabilità. Dunque avete sentito la tragedia di San Severo abbiamo detto nel nostro servizio che sia gli inquilini sia i parenti del disabile trovato poi carbonizzato dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio è stato invitato più volte ad abbandonare l'alloggio ma ha rifiutato, avrebbe addirittura detto vattene alla sorella voglio rimanere qui. Questo è quanto ha raccontato una vicina di casa di Mario Consolazio il 42enne psicolabile morto carbonizzato appunto ieri mattina nell'incendio della propria abitazione. Sembra che il fuoco possa essere partito proprio dalla sua abitazione nel tentativo di trovare una maniera per riscaldarsi. Pare insomma che la famiglia del disabile fosse una famiglia che non navigasse nel loro e dunque qualche difficoltà economica per i residenti. Abblontanate le 12 famiglie che sono state ospitate in alcuni alberghi della città dell'Alto Ottavoliere in attesa dei rilievi, dei vigili del fuoco circa la stabilità della struttura. Andiamo adesso a vedere le altre pagine della Gazzetta di Capitanata andiamo subito a spogliare per leggere gli argomenti più interessanti e vedete freddo polare, conseguenze sulle coltivazioni dunque il freddo e le gelate di questi ultimi giorni hanno distrutto le coltivazioni invernali anche in provincia di Foggia campagne avvolte dal gelo, distrutto il 20% del raccolto CIA e col diretti, finocchi e carciofi al macero SOS per gli allevamenti dunque ortaggi e verdure su circa 10.000 ettari l'export per ora va sui mercati ma la merce scarseggia si teme il perdurare delle condizioni climatiche il nuovo presidente di Agri Insieme Mercuri ha detto prezzi cresciuti del 30% nei supermercati e arrivano prodotti dall'Egitto sull'autostrada si viaggia ancora bene dice De Filippo il presidente della CIA poi lo latte dai nostri soci aiuto alla protezione civile anche Acquadotto Pugliese segnala guasti dovuti al gelo condutture praticamente bloccate dal ghiaccio Confagricoltura invece alla Regione dice liberate le strade 4 giorni di temperature sotto lo zero si cominciano a fare i conti con un'ondata di maltempo che stando alle previsioni medio potrebbe durare qualche giorno ancora Mercuri interviene vedete imprese capororato da riformare a proposito dell'agricoltura sono troppo piccole più aggregazioni e la legge che sanziona gli impenditori così non va il nuovo presidente nazionale di Agri Insieme annuncia il suo programma di auguri dell'onorevole Mongello e di Porreca ancora vedete per quanto riguarda l'emergenza neve l'emergenza neve dà una tregua ma sulle cime la coltre bianca ha raggiunto anche tre metri di altezza a Rocchetta Sant'Antonio sono saltate le condotte dell'acqua problemi anche a Celenza a Quedotto Pugliese al lavoro ripristinate le utenze Enel a Carlantino situazione nel complesso migliorata ma su molte strade provinciali interpoderali si viaggia solo con i fuoristrada vediamo il servizio di Mariangela Mariani a proposito del maltempo nelle ultime 48 ore qui in provincia di Foggia si attenua l'ondata artica resta il nevischio e a creare problemi e ora il ghiaccio su tutte le strade insieme ai disagi per centinaia di famiglie in tutta la provincia rimaste senza acqua per la rottura o il congelamento delle tubature oggi al lavoro i tecnici dell'acquedotto pugliese a Rocchetta sono arrivate le autobotti per la fornitura idrica soprattutto sui Monti Dauni problemi anche per la corrente elettrica in diversi comuni la luce va e viene l'Enel sta provvedendo a riparare i guasti scuole chiuse oggi in molti paesi del Subappennino e del Gargano a Foggia si torna tra i banchi con cappello, guanti e cappotti nonostante gli impianti siano stati accesi qualche ora prima nella serata di ieri in aula si gela niente lezioni all'Altamura e alla Pio XII per il guasto dei riscaldamenti genitori e docenti indignati uscita anticipata per il freddo nelle scuole Notarangelo e Marconi nelle campagne alla prima tregua inizia la conta dei danni il mondo agricolo è in ginocchio in tutta la Puglia e le associazioni di categoria invocano lo stato di calamità immediato in provincia di Foggia ci agricoltori italiani segnalano le criticità maggiori soprattutto sul Gargano e sui Monti Dauni fino alle campagne in agrodilucera in sofferenza le aziende zootecniche soprattutto nelle zone rurali rimaste isolate per ore nelle aree dove si sono registrate le maggiori criticità per la viabilità gli allevatori si sono trovati nell'impossibilità di raggiungere le proprie aziende in difficoltà per l'approvvigionamento dei mangimi particolarmente colpite colture e allevamenti a casa al Vecchio di Puglia e tramonto e Sant'Angelo e Manfredonia a compromettere i raccolti insieme al gelo nei campi del Foggiano sono state soprattutto le forti raffiche di vento interi campi di finocchi sono ridotti al macero ad avere la peggio sono stati proprio gli ortaggi e gli agrumi ma anche le serre non hanno retto all'eccezionale ondata di maltempo le aziende zootecniche stanno buttando il latte che non riescono a consegnare ai raccoglitori fa sapere col diretti e sono crollate del 70% le consegne dalla Puglia di ortaggi sia perché bruciati in campo sia perché i mezzi non possono ancora circolare liberamente migliaia di ettari di verdure pronte per la raccolta sono state bruciate dal gelo serre danneggiate o distrutte sotto il peso della neve animali morti dispersi e senza acqua perché sono gelate le condutture e vigneti e agrumeti sono stati irrimediabilmente rovinati al contempo il mancato approvvigionamento di mercati e punti vendita sta facendo schizzare i prezzi di vendita degli ortaggi che già all'ingrosso risultano da capogiro altissimi prezzi di rape carciofi cavoli bietole cicori e finocchi il neo eletto presidente nazionale di Agri Insieme Giorgio Mercuri parla di una maggiorazione dei prezzi nell'ordine del 30% con una sempre più massiccia importazione di prodotti provenienti dall'Egitto e da altri paesi taglieggio con la scusa anzi taglieggio con la scusa del prestito da saldare condannati e scarcerati i due imputati arrestati in maggio dunque condannati rispettivamente a due anni e sei mesi e due anni e quattro mesi Leonardo Francavilla 38enne foggiano e l'amico 36enne Luigi Lagrasta entrambi accusati di estorsione ai danni di un operaio dal quale avrebbero preteso un pizzo di 7.000 euro quale presunta restituzione di un fantomatico prestito i fatti risalgono al maggio scorso quando i due presunti taglieggiatori furono arrestati in flagranza dalla squadra mobile al momento della consegna della prima rata del pizzo avevano poi ottenuto i domiciliari e il giudice nell'emettere il verdetto di primo grado li ha rimessi in libertà accogliendo le richieste difensive in quanto ha ritenuto ormai cessate le esigenze cautelari morti in ospedale due stranieri caduti accidentalmente rese difficili le indagini perché le vittime ricoverate per settimane persero i sensi e non ripresero mai più conoscenza il nigeriano trovato morto in corso Roma il romino morto in un podere vediamo il servizio sulla morte di Mamne Aumaru Siddi di 32 anni che è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale per le gravi ferite riportate da una caduta dal secondo anello del parcheggio Zuretti a Foggia vediamo si tinge di giallo la triste vicenda di Siddu Umaru Mamne il giovane nigeriano di 32 anni trovato priva di conoscenza il 24 dicembre scorso nel parcheggio Zuretti dopo almeno secondo una prima ricostruzione un volo dal secondo piano del parcheggio stesso è morto dopo circa 15 giorni di coma il 32enne svolgeva l'attività di mediatore culturale presso il cara di Borgo Mezzanone era volontario presso la croce rossa di Foggia e frequentava un corso serale per prendere il diploma i familiari i colleghi e gli amici vogliono che si faccia luce sulla morte del giovane si tratta di suicidio caduta accidentale o provocata da una spinta i filmati delle telecamere di sorveglianza del parcheggio non hanno fornito agli investigatori della polizia elementi utili per ricostruire la dinamica della caduta si continua a indagare negli ambienti frequentati da Siddu Mamane che pare fosse ben voluto da quanti lo conoscevano si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda qualche notizia veloce della provincia sulla gazzetta lucera le opposizioni cercano alleati nella giunta per far fuori tutolo voci su malumori di alcuni assessori ma è mistero sui nomi il PD e il centrodestra di nuovo divisi dopo la sinergia in occasione delle amministrative del 2014 vediamo altre notizie velocemente prima di aprire la pagina sportiva alluvione del 2014 i fondi sono in forza e ritardi degli uffici tecnici per presentare i progetti l'allarme è lanciato da un funzionario della regione nel convegno su terre e territorio Monte e Sant'Angelo parco a grandi passi verso la Carta Europea del Turismo tra gli argomenti discussi nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo Manfredonia l'Udc non è la stampella della giunta ma non è escluso un coinvolgimento nell'esecutivo per il rimpasto dopo le provinciali e polemica dopo la presa di posizione del partito smentita però dall'atteggiamento del proprio rappresentante in Consiglio Comunale Vieste è un territorio svantaggiato che ha diritto all'ospedale dice l'euro parlamentare Elena Gentile che attacca pesantemente la direzione dell'Asla Cerignola l'interporto messo in vendita ma chi spenderà 10 milioni di euro il fallimento della struttura nata nel 1994 è costata ben 48 miliardi ed ora andiamo a vedere la pagina sportiva presentato ieri il primo acquisto del Foggia della sessione invernale del calcio mercato Foggia la mia occasione ecco Gaston Faber grinta e piedi buoni mi piace mascherano presentato il ventenne centrocampista uruguagio con i rossonini potrà debuttare forse a fine mese vediamo subito ecco le immagini Gaston Faber vent'anni nato a Montevideo proviene dal dalla formazione uruguagia di serie A di prima divisione dal Danubio di Montevideo è un centrocampista con i piedi buoni potrebbe giocare davanti alla difesa ma potrebbe occupare anche tutte e tre i ruoli di centrocampo vediamo qualche breve passo e su prime parole peraltro in spagnolo rilasciate a Fabio Lattuchella ieri a margine della conferenza stampa vediamo lui ha avuto l'opportunità di esordire in prima divisione in Uruguay a 18 anni da compiere quindi ha avuto una grande chance però si identifica maggiormente nel calcio italiano perché il calcio uruguayano è più un calcio diciamo rude e meno che meno si addice alle sue caratteristiche adesso sentiamo brevemente sul calcio mercato il presidente del Foggia Lucio Fares ancora ai microfoni di Fabio Lattuchella fa un po' il punto sul mercato è stato annunciato nelle prossime ore magari fra un paio di giorni l'acquisto del tanto atteso centravanti che dovrebbe far fare al Foggia quel salto di qualità nella corsa finale alla promozione sentiamo di un giocatore veramente che può dare molto un ragazzo un giovane quindi con delle prospettive notevoli che noi avevamo su cui avevamo messo gli occhi addosso già da tempo un giocatore fra l'altro anche ambito da altre società importanti soprattutto in categoria e in questo devo dire che si è operato molto bene il direttore sportivo e il direttore generale nell'ambito voglio dire portare qui a Foggia sia Faber sia anche Francesco Deli che ripeto manca solo l'ufficialità della presentazione ma ormai un giocatore del Foggia a tutti gli effetti si tratta di due giovani importanti due giovani di prospettiva ma nello stesso tempo due giovani che sin da subito possono dare un contributo vero alla squadra in entrata il centrocampo ormai è sistemato adesso tocca l'attacco sì è chiaro che questo rappresenta l'obiettivo principale da parte della società ho già riferito e ribadisco è chiaro che si sta lavorando in maniera attenta veloce anche per portare a casa subito l'attaccante perché è un ruolo che comunque la società vuole coprire e naturalmente il mercato di gennaio è un mercato molto difficile anche perché deve essere un elemento che deve rappresentare assolutamente un valore aggiunto e non un numero nell'ambito della formazione già esistente ecco alla luce appunto di questa difficoltà del mercato di gennaio quanto c'è di vero se si dice che nei prossimi due giorni il Foggia avrà un nuovo centro avanti ma la società ribadisco sta lavorando già da tempo per cui è chiaro che potrebbe anche essere che nei prossimi giorni i prossimi prossimi ci potrà essere appunto questo annuncio però è anche vero che ribadisco siccome è un mercato molto particolare quello di gennaio complicato e difficile anche perché il Foggia è chiaro che punta a nomi che possano rappresentare un valore aggiunto i giocatori sono pochi le richieste sono tante per cui stiamo lavorando molto bene in maniera attenta seria e potrebbe essere anche un annuncio che si potrà avere nei prossimi giorni dunque l'annuncio nei prossimi giorni avete sentito per l'attaccante rimangono quattro i nomi molto vicini al Foggia al momento oltre a Donnarumma a Di Piazza per il quale insomma sembrava fatta ma che secondo noi è abbastanza distante dal Foggia possiamo aggiungere i nomi di Di Carmine Evacuo che potrebbe addirittura rientrare in uno scambio Chiricò Evacuo con il Parma ma c'è un nome nuovo che è venuto fuori nelle ultime ore quello di Marotta un calciatore abbastanza prolifico in fatto di gol attualmente in forza al Siena con il Siena che avrebbe intenzione di cederlo per monetizzare avendo qualche difficoltà di carattere economico dunque questi calciatori nel mirino del direttore sportivo Beppe Di Bari vediamo anche qui naturalmente sulla presentazione vedete Faber come Pulicelli ancora un Uruguaggio Faber infatti di Montevideo ricorderete invece l'allenatore che fu del Foggia Ettore Pulicelli anche lui Uruguaggio queste dunque le notizie per quanto riguarda il Foggia Calcio ed è tutto per oggi termina infatti qui la nostra rassegna stampa a tutti voi grazie per l'attenzione vi rimandiamo alle prossime edizioni per gli aggiornamenti buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.